Allora ragazzi io ho rubato questo telefono a una certa Doni Sala E ricomincia Così magari fate gli amanti Vabbè Io ho rubato questo telefono a una certa Doni Sala Che io non so se conoscete perché forse se siete su questo canale un motivo ci sarà Anzi io vi prometto Che questo canale Si autodistruggerà fra 3, 2, 1 Ciao Primo mondo La prima Bravo Primo sempre scritto Ma lo saper under voi E' una cosa che non va fatta Soprattutto se siete in ultima donna Andiamo a 13 Bravo No, 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 no.